Ragazzi, ma stiamo scherzando, ma io te lo dico io a te, prego prego ci sono anche le ragazze, venite qua, ma io posso abbracciare, che bello, quanta avventura insieme, ciao, sempre bellissima, grazie, bravo, io ti voglio dare prima un bacio e poi anche il 5 perché ragazzi questa interpretazione, grazie, siamo in diretta, ragazzi sì, siamo in diretta, Che spettacolo, è piaciuto? Vabbè, diciamo l'avevi anticipato, sì ma non ce l'aveva detto che il mezzo faceva supereroi? Era una chicca e poi con questa super squadra è un onore aver condiviso il palco di questo Sanremo che per me è importantissimo, anzi ringrazio tutti quanti perché hanno reso questa performance veramente unica e speciale. Sì, veramente, per voi gemelli, questo palco che rappresentava? Noi torniamo dopo qualche anno, 2009 eravamo in gara, 2009 era, con? Vivi per un miracolo, il festival di Bonoli, ci siamo trovati veramente, infatti quando ci chiedono cosa è pensato del festival, fatelo perché è divertente. Perché è tutto sommato, no? Quando ci ha chiamato questo ragazzo qua, chiedendoci la possibilità di portare una canzone come Mary, con le tematiche così importanti, purtroppo anche al giorno d'oggi, non sto a dilungare. Purtroppo però, lo commentavamo ieri con lui, diciamo, questa canzone, quando ancora si parlava meno. Noi non l'abbiamo mai data a nessuno questa canzone, i diritti di fare questa canzone, l'abbiamo data. Grazie, quindi è la prima volta. In che non cambiano le cose se ne dovrà sempre parlare, sempre. Assolutamente, è la prima volta che viene ricantata da altri, quindi questa... Prima volta. La prima volta, esattamente. In un'anni. Sì, però io l'ho cantata milioni di volte. Il palco ci sembrava. Non vi pago però. E ragazzi, la scelta di portare anche le farfalle azzure sul palco... Che meraviglia, perché hanno reso il palco un dipinto fantastico, infatti le faccio ancora un super, super applauso e vi ringrazio di cuore. Grazie, campionesse. Grazie a voi. Sembrava abbastanza facile per voi però, a vostro agio. Non era proprio il nostro palco, la nostra pedana è molto più grande e molto più alta. Ma diciamo, scusa, se mi avessero detto un po' di tempo fa che saresti capitani a Sanremo, mi sa che non ci avessi creduto. Perché è una cosa bizzarra. Sì, in realtà dopo i piedi di Tokyo abbiamo fatto un salto qui a Sanremo. Ah, è vero, scusa. Quindi speriamo che sia un portafortuna anche per questo agosto che abbiamo le Olimpiadi a Parigi. Quindi... Eh, a Parigi! Grande, ragazzi. Purtroppo noi abbiamo pochissimo tempo, ma... Perché abbiamo le canzoni che dobbiamo lasciare. Cioè, avete spaccato. Grazie. Grazie a voi, ragazzi. Grazie per averla fatta in questo modo, per riportare queste tematiche. Grazie davvero. Noi ci vediamo domani, noi ci vediamo all'Hollywood. No, chiudono. Ai tempi. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.